Siamo con Marco Mosconi, dicevamo che siamo rimasti stupiti dalla bravura della compagnia. Grazie, è un piacere, sono tutti ragazzi che lavorano insieme da tanti anni, sono cresciuti insieme dalla scuola media e proseguiamo. È un piacere stare insieme e si vede anche da come loro stanno sul paico, eccoci, è un divertimento per tutti. La compagnia viene da quale zona? Sinalunga, è la filodrammatica di Sinalunga. Senta, è difficile, perché voi avete creato un vero e proprio musical. Sì, ci occupiamo proprio di musical, ormai da 12 anni abbiamo fatto i più celebri musical che girano in Italia, da Giungiù un po' Stantavola, Grease, The Lion King, Alle Due Brava Gente, proprio per la passione del canto e della musica e soprattutto, eccoci, quello che tengo a sottolineare, tutto è fatto dal vivo, non c'è una sola nota registrata, dagli strumenti ai coristi, alle voci dei ragazzi, è tutto musica dal vivo. Tra l'altro è una compagnia piuttosto numerosa perché per realizzare un musical ci sono, ho visto, c'è tutta l'orchestra che segue poi gli attori, ballerini, cantanti. Sì, sì, anche l'orchestra, siamo tutti, diciamo, amici. Io ho suonato insieme a molti orchestrali per 17 anni e quindi siamo cresciuti insieme e quindi la passione per la musica, la passione per il canto ci porta a poter fare queste scene. Tra l'altro questo è un musical anche in alcune parti molto difficile, anche perché, insomma, ricordiamo che le canzoni sono particolarmente belle, sono degli Abba. Sì, la musica degli Abba degli anni Ottanta, tutta la loro storia che sta girando in tutto il mondo, in tutte le lingue. Questo è un musical che sta girando in tutto il mondo, con tutte le lingue. Grazie.